Gara 1 dell'International GT Open da Spa a parte con la safety car a causa della pioggia Fabrizio Crestani che poi riesce a mantenere la leadership nei confronti di Mikael Greniele Lambo in lotta fra loro per le posizioni di rincalzo sul podio Già fuori dai giochi la McLaren di Fran Rueda Il testa coda invece di Codrici che costerà forse anche il podio finale Visto il terzo posto di Chavez sotto la bandiera a scacchi il testa coda di Michael Meadows Che debutta così nel International GT Open al fianco di Daniel Zampieri La lotta per la bassa top ten tra il team Lazarus e Raton con Amstelzev La vettura di Onidi, il sorpasso che vale la vittoria, la leadership provvisoria per Ramos Salvo poi doversi guardare dal ritorno delle Lambo dell'Emil Frey Racing Qui Siedler va prima a prendere la seconda posizione ai danni del team imperiale Poi infilerà anche alla Source il portoghese di casa SPS E questo invece il recupero di Albert Costa che va prima in terza posizione Poi in seconda con una sportellata però ai danni di Miguel Ramos Costretto a cedere la posizione il pilota spagnolo decide così di scendere dal podio Facendo passare anche la McLaren per scaricare l'handicap in vista di gara 2 In quanto ora in vetta alla classifica appaiati a pari punti Ci sono le due vetture dell'Emil Frey Racing, Siedler e Grenier e Costa Altoè Ci sono le due vetture dell'Emil Frey Racing Ci sono le due vetture dell'Emil Frey Racing